E' chiaro che il massimo impegno nostro deve essere sul fronte dell'umanizzazione e della presa in carico dei pazienti. Una linea che al caffoncello il reparto di geriatria attendeva da tempo. Strutture adattate e organico non sempre sufficienti avevano sollevato un caso che l'inaugurazione di oggi ha concluso. Scomparsi gli stanzoni per delle degenze più a misura di paziente, che nel caso di questo reparto sono ancora più delicati. Così l'area di 350 metri quadri è stata ripensata portando i 44 posti a 28, però suddivisi in 6 stanze da 4 letti e 2 da 2. Attenzione al paziente soprattutto verso il fine vita, con una camera dedicata agli ultimi momenti ed un'altra per il raccoglimento dei familiari prima del trasferimento della salma. Un reparto che solo nel 2016 ha visto oltre 3.000 ricoveri e che punta a rinnovare non solo ambienti e infrastrutture. Proprio per questo stiamo cercando di fare una rotazione del personale, portando persone giovani e cercando di alleviare ormai chi da tanto tempo è in un reparto così difficile da gestire. Speriamo che queste due cose insieme riescano a garantire una risposta soddisfacente all'utenza.